Introduzione Il rombo è un quadrilatero, ovvero un poligono formato da quattro lati. La particolarità di questa figura geometrica risiede nel fatto che possiede due diagonali che si intersecano esattamente al centro del rombo. Queste diagonali dividono il rombo in quattro triangoli rettangoli. Ma se si considerano singolarmente, le diagonali dividono il rombo in due triangoli isosceli. All'interno del rombo è possibile inscrivere un cerchio che tocca tutti i lati della figura. Il centro del rombo coincide con il centro del cerchio da cui parte il raggio, che a sua volta coincide con l'apotema delle rombo. Un poligono regolare ha tutti i lati congruenti mentre se il poligono è irregolare non vi è un punto medio equidistante dal punto medio di tutti i lati. Puoi calcolare l'apotema se conosci l'area. Se conosci l'area e le lunghezze laterali, puoi utilizzare una formula più semplice. Calcolare l'apotema delle rombo. La formula per trovare l'apotema è necessario conoscere sia l'area che il perimetro delle rombo. Nel caso in cui il problema non vi fornisca questo due dati, dovete ricorrere alle formule inverse. La formula per calcolare l'apotema conoscendo il valore dell'area e del perimetro è la seguente. Moltiplicare l'area del rombo per 2 e dividere il risultato per il valore del perimetro. Apotema uguale area 2 perimetro. Altri contenuti sul rombo. Come calcolare l'ampiezza degli angoli del rombo. Come calcolare il lato del rombo. Come calcolare l'altezza del rombo. Come trovare le diagonali di un rombo. Area delle rombo. Formula diretta e formule inverse. Come si calcola utile per il tuo studio. Il libro per studiare le regole e le formule di geometria. Il matè 41, geometria 1, procedurario di geometria formule e strategie. Per, enti fondamentali, angoli, poligoni, figure piane e solidi. Parallelismo, teoremi, circonferenza. 9,98€ da avedi l'offerta la calcolatrice scientifica se studi matematica e geometria. a meno 14 e amp. Per, enti, casio FX 350 ex calcolatrice scientifica. 20,99€ 23,99€ da avedi l'offerta integratore per essere sempre al top della concentrazione meno 31 e amp. Per, enti, acuti il fosforo advance. Integratore alimentare a base di L asparagina, fosfoserina, N acetil-L glutamina, e vitamina B6, 50 compresse facili da deglutire. 11,62€ 15,20€ da avedi l'offerta.